Devi vendere casa, ma pensi che gli agenti immobiliari siano tutti uguali? Alt! Scegli un consulente già proiettato nel futuro. Scopri il nostro approccio unico e innovativo. Far gestire il tuo immobile a più agenti ti sembra una buona idea? In realtà, rischi di danneggiare la tua credibilità e far scendere il prezzo. Invece, con Esclusiva e Inclusiva, nostro protocollo brevettato, siamo noi il tuo unico interlocutore di fiducia. Per aumentare le possibilità di trovare la persona giusta, creiamo una strategia di marketing personalizzata che prevede anche la condivisione riservata con altri agenti immobiliari della zona. Per evitarti appuntamenti inutili, offriamo ai clienti un tour virtuale 3D in modo che i potenziali acquirenti possano fare una prima visita da casa loro. E se vuoi sapere cosa sta facendo il tuo agente immobiliare, basta un clic. Avrai accesso a un'area riservata di gestione dell'immobile dove trovare tutti i feedback delle visite con i potenziali clienti. Inoltre, dimentica i documenti sparsi o da richiedere in giro. Creiamo una cartella certificata in blockchain che raccoglie tutta la documentazione dell'immobile, passata e futura, in modo sicuro, facile da usare e accessibile per sempre. Non sai quanto vale la tua casa? E la nostra valutazione non ti basta? Chiedilo all'intelligenza artificiale. Utilizziamo un algoritmo innovativo che calcola valore e tempistiche di vendita in maniera indipendente. Curioso? In Trentino Alto Adige, scegli Personal Re, un team con specialisti per ogni tipo di esigenza immobiliare. Contattaci per una valutazione gratuita.